Amici Trevi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del Tg di Trevi. Attenzione, sta per accadere qualcosa di interessante sull'Italia. Intanto partiamo dalla situazione attuale con ancora condizioni di instabilità al centro-sud. D'altro in questi giorni abbiamo visto acquazioni temporali anche forti nelle regioni centro-medionali con diverse occasioni per disagi e anche dei danni veri e propri. Ebbene, situazioni che anche nei prossimi ore rimarranno molto ingarbugliate. Il nord però resta fuori dai giochi. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Queste nuvole da domani si allontaneranno da Italia. Quindi da domani tempi in miglioramento al centro-sud. Al contrario, la nuovestà che vedete là, lontano, sull'Europa orientale, si muoverà in moto retrogrado, quindi andando all'indietro in qualche modo, verso le regioni settentrionali, le raggiungerà alla fine di mercoledì e giovedì finalmente torna la pioggia stavolta al nord. La situazione è un po' questa schematicamente con la prima bassa pressione, quindi il primo sistema nuvoloso, quello del centro-sud, che si allontana e questa nuova perturbazione che raggiunge il nord Italia tra la fine di mercoledì e giovedì. Per le prossime ore però, attenzione, ancora temporali, abbastanza diffusi nel centro-sud peninsulare. Dalle basse Marche, dal Lazio, in giù sostanzialmente, tanto ancora con qualche fiocchettino di neve sulla pleno centrale, sia quote abbastanza alte, ma neanche così elevate, perché al centro-sud continuano a soffiare venti settentrionali piuttosto freddini, quantomeno con temperature al di sotto della media. Il nord, vi dicevo, per ora è fuori dai giochi, ma arriverà qualcosa appunto più avanti e in effetti tra il 20 e il 21 ecco peggiorare il tempo, finalmente mi è da dire, nelle regioni settentrionali. Non sarà un passaggio particolarmente incisivo, stata di acquazzoni di passaggio, però meglio che niente, abbiamo un tale bisogno d'acqua al nord che anche questo breve passaggio, comunque, può essere utile, quanto meno per bagnare la terra. Come temperature risalgono un po' al centro-sud con il miglioramento del tempo, invece giovedì, con l'arrivo dei temporali al nord, caleranno in maniera anche vistosa sulle regioni settentrionali. Basta per tutti i dettagli, comunque anche per le regioni a seguire, il ponte del 25 aprile, consultate l'app di Trevi Meteo.